Buonasera e bentrovati alla seconda edizione di GNews in apertura alla cronaca. Un operaio albanese di 35 anni è morto nella sua macchina che ha tamponato violentemente un autobus di linea dell'Arpa. L'incidente si è verificato oggi verso le 14.30 lungo la Provinciale 2 all'altezza dell'abitato della frazione di Faraone. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente la macchina condotta dal giovane extracomunitario che risiede a Villa Lempa si è schiantata nella parte posteriore del mezzo di trasporto pubblico finendo sotto al motore. Il conducente è morto sul colpo rimanendo incastrato nell'abitacolo. E ancora con la cronaca ci spostiamo nelle Marche andiamo a Porto Sant'Elpidio. Grave incidente sulla statale 16, 5 feriti, traffico deviato. L'incidente è avvenuto all'altezza del ristorante cinese di via Cavour nei pressi della rotatoria incrocio che porta a lungomare nord. 5 feriti tutti di media gravità sul posto tre ambulanze tra cui la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, il 118, e due squadre dei vigili del fuoco di fermo. E ancora un incidente poteva andare molto peggio a tre amici investiti intorno alle 20 e 30 nei pressi di Cellino a Tanasio. Il più grave ha riportato nell'impatto un trauma facciale ed è stato trasportato in ospedale grazie all'intervento del 118 e della Croce Rossa. Le sue condizioni vengono definite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due invece se la sono cavata con traumi di minore entità. Alla guida dell'auto che ha investito i tre c'era un ragazzo che secondo le prime informazioni sarebbe di Villa Vomano. Il giovane si è dato alla fuga subito dopo l'incidente ma appena tornato a casa ha raccontato tutto al padre. Il genitore ha deciso allora di portarlo in caserma a Castelnuovo Vomano per fargli raccontare la verità. Il ragazzo verrà denunciato per omissione di soccorso. Rapina con sparatoria stamani nell'area di servizio Civita Sud di Oricola dell'A14 Roma. L'Aquila, teramo, un uomo armato di fucile e con il volto coperto è entrato nel gabbiotto del distributore di carburanti e ha minacciato l'addetto affinché gli consegnasse il denaro che aveva. Vista la ritrosia del giovane il rapinatore ha sparato un colpo a scopo intimidatorio. Solo a quel punto gli è stato consegnato il denaro, circa 400 euro. Il malvivente si è quindi direguato a piedi probabilmente per raggiungere l'auto che aveva parcheggiato dietro l'area di sosta della stazione di servizio. I rilievi e le indagini sono affilate alla polizia stradale di Carsoli. E andiamo a San Benedetto. Si è procurato da solo delle ferite, fincendo di essere stato aggredito e rapinato da alcuni tunisini. Invece voleva solo nascondere il vizio del gioco ai videopoker. In faccia aveva graffi e perdeva sangue. Ai medici ha detto di essere stato aggredito e rapinato da due tunisini nell'area del Pontino Lungo a San Benedetto del Tronto. Quando i carabinieri sono arrivati all'ospedale per stilare il verbare e raccogliere la denuncia all'uomo quarantenne di origini pugliesi, ha ingigandito la storia, ricchendola di minuziosi particolari. Ma i militari hanno intuito che qualcosa non andava. Così, messo alle strette, ha confessato di essersi inventato tutto. Lo ha fatto, ha detto, perché aveva perso ai videopoker e non aveva il coraggio di tornare a casa senza denaro e senza una buona spiegazione per giustificare quella perdita. È stato denunciato per simulazione di reato, oltre che per l'inosservanza del provvedimento a cui era soggetto. 14 cuccioli di cane tenuti segregati in due gabbiette, una destinata agli uccelli senza acqua e in condizioni igieniche più che precarie, sono stati salvati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato di San Benedetto e Montegiorgio, in una porcilaia privata. La proprietaria l'aveva messa in vendita con annunci sul web. È stata denunciata per maltrattamenti e rischia fino ad un anno di arresto e 10.000 euro di multa. Arrestata per aver tentato di corrompere con 100 euro un doganiere per far passare la sua valigia in aeroporto, anche se pesava troppo e quanto accaduto ad una donna bielorussa di 53 anni, arrestata dai carabinieri di Fano su segnalazione dell'Interpol. La donna sarà estradata in Bielorussia. Secondo l'accusa, aveva cercato di corrompere un ufficiale doganale infilandogli i soldi in tasca perché facesse passare una valigia molto più pesante. L'unione sindacale di base in sciopero presso i magazzini di un noto marchio della grande distribuzione per protestare contro il licenziamento di alcuni lavoratori in esubero, quasi tutti stranieri. Il sindacato denuncia inoltre l'utilizzo di ore di straordinario a fronte dei previsti tagli del personale. Ma vediamo i particolari nel servizio. Oggi qui stiamo protestando in seguito a una procedura di mobilità aperta da questa cooperativa che ha colpito nove dei nostri iscritti. Ma è una procedura totalmente illegittima e infondata che non ha rispettato i criteri di legge che noi non abbiamo assolutamente sottoscritto e che purtroppo ha visto l'azienda andare dritta per la sua strada e buttare fuori dalla cooperativa queste 9-10 persone. Noi oggi qui abbiamo fatto uno sciopero perché all'indomani di questa mobilità nonostante la perdita del lavoro questi ragazzi non hanno nemmeno percepito lo stipendio che dovevano come c'era stato promesso durante questa procedura di mobilità. Ma diciamo che non è il primo sciopero che facciamo ne abbiamo fatti anche altri per rivendicare tutta una serie di situazioni negative all'interno della cooperativa che riguardano il salario la pago oraria, tutto ciò che riguarda la sicurezza e trovando però sempre di fronte a noi un muro è una cooperativa con la quale non è possibile discutere per migliorare le condizioni dei lavoratori e quindi ci trova purtroppo a scioperare e abbiamo in piedi anche delle cause per cercare di vedere se non potendo discutere con l'azienda se qualche giudice ci darà ragione su quello che noi abbiamo preteso. L'Eurospin mentre licenzia 10 persone all'interno del magazzino le altre persone costringono a fare straordinari è una decisione assurda ed è per questo per cui noi non abbiamo sottoscritto l'accordo sulla mobilità che denunciava un esubero perché l'esubero è inesistente a questo punto dovrebbero anche intervenire gli organi di controllo su questo fatto perché all'interno di questo magazzino c'è di tutto di più interinali, lavoro straordinario però dall'altra parte l'Eurospin licenzia è assurdo, per questo l'USB continuerà a fare battaglia e a chiedere giustizia anche nei luoghi opportuni. La senatrice del PD Camilla Fabri conferma la sua disponibilità a candidarsi a governatore delle Marche in un percorso che porti il PD all'unità e alla responsabilità una responsabilità, dice in una lettera aperta che rimarrà fino a quanto il percorso per giungere alla scelta di una candidatura unitaria proseguirà qualora invece si dovesse arrivare alle primarie l'assemblea del PD chiamata a decidere e convocata per il 22 gennaio la Fabri ritiene che il nome dell'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli sia la figura più adatta e spendibile in questo nuovo percorso. Ed ora torniamo in Abruzzo e andiamo a Tortoreto scarichi abusivi entro il 30 aprile dovranno essere sanate tutte le situazioni irregolari, i particolari nel servizio. 100 giorni di tempo per allacciarsi alla rete fognaria per chi ancora non l'avesse fatto. Stesso termine per dismettere qualsiasi altro sistema alternativo di depurazione delle acque, i cosiddetti pozzi neri e delle condotte pluviali che finiscono nel sistema delle acque nere. Il tenore di un avviso pubblico diffuso nell'ultima ore dal sindaco di Tortoreto Alessandra Ricchi. Il provvedimento, che è una sorta di moratoria in linea con quanto accaduto nel recente passato ad Alba Adriatica ha come obiettivo quello di andare a sanare una serie di situazioni anomale, a volte irregolari che poi potrebbero avere effetti negativi in tema ambientale. La questione è piuttosto nota, ossia il fatto che non tutte le civili abitazioni, ma anche attività sono regolarmente allacciate alla rete fognaria. O meglio, si creano in alcuni casi situazioni particolari lo scarico dei pluviali nel sistema fognario anomalia che produce un sovraccarico di lavoro per i collettori ma in alcuni casi anche scarichi fognari che finiscono direttamente nelle acque bianche. Nulla di nuovo sia chiaro anche perché ad essere ricompresi in questa speciale categoria ibrida ci sono anche vecchie abitazioni realizzate decenni fa. Ora però l'amministrazione comunale di Tortoreto ha deciso di dare un taglio ed aprire la strada ad una totale regolarizzazione di tutto il sistema. Entro il prossimo 30 di aprile dunque le utenze irregolari dovranno essere sanate. Il sindaco infatti ricorda che il mancato rispetto di questa normativa poi presuppone sanzioni di natura amministrativa ed anche penale. Scaduto il termine della moratoria il 30 aprile saranno avviati i controlli di concerto con il gestore di servizio idrico integrato ossia la società Ruzzo. In caso di inadempienza sarà poi il comune ad effettuare i lavori con addebito delle spese agli utenti. Anche le fonti rinnovabili si rinnovano sembra un gioco di parole ma è proprio quello che è successo a Valle Castellana dove all'interno della diga di Talbacchia al confine tra Marche e Abruzzo Enel ha realizzato una nuova centrale idroelettrica di piccola taglia che produrrà energia in grado di soddisfare i consumi di circa 260 famiglie. L'impianto spiega una nota dell'azienda si trova all'interno del corpo della diga di pertinenza della centrale Capo di Ponte Castellano in servizio dal 1949 e produce energia utilizzando le stesse acque sfruttando esclusivamente la portata che la legge obbliga a rilasciare per garantire un adeguato sostegno agli habitat fluviali. Ed ora ad Ascoli Piceno il sindaco Guido Castelli si schiera apertamente contro i tagli ai fondi per la Quintana previsti dalla Regione Marche. Il primo cittadino ci illustra inoltre i principali punti della riforma che l'amministrazione comunale sta attuando proprio in merito alla storica rievocazione medievale i particolari nel servizio. Abbiamo ascoltato il parere del sindaco di Ascoli Guido Castelli in merito al ventilato taglio dei fondi destinati alla Quintana da parte della Regione Marche. Ho preso anche informazioni sembra che la decisione sia un po' riferita a tutti gli spettacoli e tutte le manifestazioni della Regione. Spero che sia così. Non potremmo tollerare infatti che la regina delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di questa nostra Regione dovesse pagare un atteggiamento discriminatorio magari a vantaggio di altri. Non lo so, speriamo che non sia così. Speriamo soprattutto che sia vero quello che il dirigente del servizio regionale competente mi ha promeso ovvero che in sede di assestamento di bilancio la Regione interverrà per sanare questa ferita che sarebbe gravissima perché la Regione Marche collabora con circa 30-35 mila euro che in tempi di spending review e di riduzione delle risorse a carico dei comuni sarebbero veramente dei soldi in meno che purtroppo lascerebbero il segno. Devo dire però che questa notizia che noi in qualche modo presagivamo rende ancora più importante, significativa e necessaria l'azione di riforma che stiamo conducendo che proprio giovedì arriverà in Consiglio Comunale ovvero l'internalizzazione del servizio che si occupa della Quintana. Noi cancelleremo quindi il vecchio ente Quintana assumeremo come comune proprio il compito di organizzare la Quintana producendo risparmi per centinaia di migliaia di euro quindi abbiamo già capito quale è la strada per resistere e non far mancare nulla alla Quintana perché è una manifestazione davvero di straordinario rilievo e significato sia sociale che culturale e turistico. Duole dover rincorrere sempre le situazioni quindi speriamo che veramente la regione rinzavisca e capisca che non tutte le manifestazioni sono uguali c'è qualcosa di più importante la Quintana è fra queste. Ovviamente la riforma, lo dico per rinformare i sestieranti coloro i quali guardano la Quintana soprattutto come è fatto interno cittadino di competizioni di sestieri rimarrà autonoma per quanto riguarda proprio l'organizzazione del gioco quindi i poteri di spesa e gli impegni di carattere finanziario tutti del comune mentre invece l'autonomia noi la riconosciamo e la rafforziamo proprio in capo a quegli organismi che rimarranno ripeto senza potere di scrivere e stipulare i contratti e mandati ma con il potere e il prestigio di dover invece organizzare al meglio la sfilata, l'organizzazione del gioco e tutto ciò che è Quintana che fa pulsare forte il cuore degli ascolari. La situazione politica fermana dopo l'abbandono di Selle e della consigliera indipendente Torresi è nel pieno di una crisi che vede nella Brambatti senza più la maggioranza in consiglio comunale mentre il sindaco si appresta ad un incontro con il PD per un ultimo chiarimento Selle cerca di spiegare i motivi per cui ha voltato le spalle all'esecutivo di cui faceva parte vediamo Giornata decisiva a fermo la giunta Brambatti è senza numero dal vertice di maggioranza quando Selle e Maria Giulia Torresi l'hanno mollata la scelta di Selle risale alla sera prima quella di giovedì con l'assemblea degli iscritti e Selle cerca ad oggi dopo aver lasciato la città praticamente senza un governo di dare spiegazioni ai cittadini e ai propri elettori Comunque il sindaco Nella Brambatti aspetta la serata di oggi per il chiarimento definitivo con il PD dopodiché prenderà una decisione l'unica possibile dato che non ci sono più i numeri in consiglio comunale Selle per quanto riguarda il proprio abbandono rivendica una serie di questioni soprattutto quelle che dovrebbero essere contenute nel cosiddetto documento programmatico di fine legislatura sembrerebbe che il partito si appelli alla questione della riunione dell'altra sera quando invece di parlare dei punti tanto cari a Selle si è parlato invece della questione dei vigili urbani dello spostamento di essi delle dimissioni poi subito ritirate dall'assessore competente Fortuna quindi di tutto tranne che dei punti importanti come per esempio il piano particolareggiato di Marina Palmenze per il quale sempre secondo Selle si prevederebbe l'edificazione di circa 70 appartamenti mentre Selle non vuole assolutamente che la riqualificazione del quartiere con una migliore distribuzione della popolazione ma anche dei servizi quindi queste le ragioni di un partito che dice di aver lasciato dopo che lo stesso PD ha chiesto le dimissioni del sindaco Brambatti La lista di minoranza impegno per Santomero invia una dura nota contro l'amministrazione Luzzi criticata per non aver accolto la proposta di rinunciare alle indennità l'aggiunta Luzzi all'inizio del mandato si legge nella nota si è aumentata le singole indennità riportandole al massimo previsto dalla legge eppure ci si aspettava delle scelte sicuramente diverse da un'aggiunta che tanto aveva criticato le indennità della precedente amministrazione in vari comuni a noi vicini e non in dissesto molti amministratori hanno provveduto a tagli dell'indennità deliberando riduzioni o azzeramenti delle stesse e destinandole ad altre finalità sarebbe stato opportuno che gli stessi sacrifici richiesti oggi a cittadini fossero stati seguiti anche da tutti i titolari di cariche elettive i quali hanno volontariamente deciso di mettere il proprio tempo e competenze a servizio dell'ente pubblico e torniamo nelle marche il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Giulio Natali annuncia l'imminente presentazione di un'interrogazione per chiedere spiegazioni in merito alla vicenda della presunta incompatibilità del direttore dell'area Basta 5 Massimo del Moro a ricoprire il proprio incarico i particolari nel servizio la vicenda del Moro cosa pensa Fratelli d'Italia su questa situazione ma noi io in regione personalmente a seguito di una lettera che è arrivata a tutti i componenti della quinta commissione sanitaria del consiglio regionale una lettera a firma del consigliere comunale Ciccanti Ciccanti è il consigliere comunale di Venarotta e chiedeva di poter verificare certe realtà sulla curriculum professionale del dottor del Moro io ho chiesto al presidente della commissione che si facesse lui interprete a nome di tutti perché il consigliere Ciccanti correttamente diceva io non sono in condizione di fare questa verifica voi siete consiglieri regionali lo potete fare io ho chiesto al presidente della quinta commissione a Gianluca Busilacchi di farlo lui anche perché aveva una veste più istituzionale e anche perché a mio avviso tutto questo andava a tutela di Del Moro perché se qualcuno ancora dice che non ha i requisiti per fare il direttore di area vasta quello era il modo per approfondire la questione per dire che invece erano tutte stupidaggini lui era pienamente titolato a svolgere il ruolo che sta svolgendo da un anno all'incirca ho avuto una nota che la giunta regionale martedì scorso ha fatto una nota verbale che mi è giunta a me perché come persona interessata a questa richiesta in cui mi si dice che tutta la cherella è stata rimessa dalle mani del direttore generale Genga dell'Asur che dovrà lui verificare questo prendendo i dovuti provvedimenti io se domani non avrò alcuna notizia farò un'interrogazione all'assessore alla sanità con risposta urgente e da capogruppo cercherò di farla mettere addirittura nel prossimo consiglio regionale perché capite non è possibile che ci sia un dubbio sulla idoneità di un direttore di area vasta a svolgere il ruolo di direttore questa è una situazione di legalità siccome la legalità mi avviso viene prima è il metodo tante volte rispetto al merito se tu puoi fare una cosa non mi interessa se la sai fare o non la sai fare l'importante è che la puoi fare se non sei in grado di farla non la puoi fare non la puoi svolgere a me è sembrato doveroso andare dietro a quella richiesta ma proprio per accertare e fugare ogni dubbio sulla posizione del dottor Del Moro se poi invece i dubbi si creano si sono creati o addirittura si andrà anche oltre sarà un problema del dottor Del Moro ma non nostro stamani si è tenuto in prefettura l'incontro fra provincia sindaco di Bellante presidente comitato di quartiere ferrovie dello Stato per risolvere l'annoso problema creato dalla chiusura del passaggio a livello a Molino San Nicola la presidente del comitato di quartiere ha riassunto e illustrato la situazione al prefetto e chiesto garanzie di sicurezza con date e scadenze chiare il sindaco Mario Di Pietro dopo aver ringraziato il prefetto per la disponibilità ha ricordato come la convenzione stipulata nel 2002 fra ferrovie e provincia che ha portato alla chiusura del passaggio a livello abbia abbassato notevolmente il livello di sicurezza nonostante l'impegno del comitato di quartiere alla popolazione i comportamenti corretti Nereto ha festeggiato un'altra centenaria a distanza di pochi giorni da Antonia Iachini si chiama Carolina Galli e ieri è stata festeggiata da familiari amici e parenti presso la locanda Corropoli visibilmente commossa ma in ottimo stato di forma ha ringraziato tutti i partecipanti vediamo tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri e Carolina tanti auguri a te ho tanto lavorato viene da una famiglia era tanto numerosa 11 11 in famiglia e in questi anni che cosa ha camminato tanto ho lavorato tanto la famiglia è numerosa quanti figli ha? 3 2 3 3 a Oslavia e poi ha tanti nipoti ma i nipoti non mi sono contati si è emozionata ma cosa vuole dire ai suoi figli oggi ai suoi nipoti che sono qui a festeggiarla ringrazio tutto ringrazio ringrazio il signore che mi fa la fotografia è contenta? si sta contenta un traguardo molto importante che solo pochi riescono a raggiungere e sapere che mamma è riuscita a contargli tutti i suoi 100 anni e in buona salute oltretutto noi figli li rende molto orgogliosi siamo molto orgogliosi di questo e ci accompagna ancora per lungo tempo noi lo speriamo che possa continuare ancora il suo cammino ancora per accompagnarci un altro po' nel tempo siamo con la nuora Rosanna Mosca la nuora che l'ha sempre accudita in questi anni quando mi sono sposata che sono stata insieme non è che sono stata in un'altra casa e poi è venuta da mi sempre sempre insieme è 46 anni che poi è una signora pimpante in forze beh mi ha dato la forza forse mi ha dato tanta forza tanta energia mi ha dato sì perché ha un bel carattere abbastanza forte quindi sindaco oggi si festeggia un'altra mitica centenaria Nereto sì la seconda in pochissimi giorni abbiamo rischiato anche di avere la terza purtroppo morta solo qualche mese fa e questo è un buon viatico per Nereto per tutti i neretes perché evidentemente vivere a Nereto porta bene abbiamo la possibilità di arrivare anche ai cent'anni no auguri al neocentenario auguri a tutti gli anziani che possono arrivare a questo traguardo auguri a tutti noi perché possiamo veramente sfondare il tetto dei cento anni perché la vita le riservi ancora tanta salute serenità e longevità auguroni ecco qui c'è una medaglia che rappresenta il simbolo di Nereto San Martino ecco auguroni davvero e grazie per le sempre cantate e andiamo a San Benedetto da ieri mattina in Riviera delle Palme è diventato un cantiere partiti infatti lavori per la messa a norma che permetteranno allo stadio di accogliere fino a 14.000 spettatori si installerà l'ascensore per la sala gossa e per la tribuna centrale mentre nella tribuna est si realizzerà una postazione per il pronto soccorso e una per la polizia oltre a opere di rifinitura il tutto per un importo di 100.000 euro lavori che proseguiranno per un paio di mesi la restituzione del cantiere è prevista infatti per il 31 marzo e solo allora partirà la convenzione per il fotovoltaico e torniamo in Abruzzo il presidente della commissione di vigilanza Mauro Febo e il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri criticano l'operato dell'assessore regionale all'agricoltura nella gestione dell'emergenza che ha riguardato il comparto agricolo regionale vediamo Mauro Febo presidente della commissione regionale di vigilanza dunque secondo Forza Italia ci sono dei danni al settore dell'olivicoltura e anche dei pascoli a causa dei ritardi della regione perché? Guardi io sono intervenuto già nel mese di luglio insieme alle altre organizzazioni come Contra Agricoltura col Diretti per segnalare che questi cambiamenti climatici soprattutto quello estivo che stava portando una serie di danni all'agricoltura non si è intervenuto e purtroppo i danni si sono visti in prima battuta il sistema marsicano messo in crisi sugli ortaggi poi è arrivato il problema della raccolta dell'uva e quindi con la produzione del vino e soprattutto il dramma è stato quello dell'olivicoltura dell'olio della produzione di olio dove praticamente la regione Abruzzo ha 66.000 aziende agricole ben 61.000 producono olio abbiamo un calo valutabile tra il 75% e l'80% all'improvviso l'assessore Pepe la regione Abruzzo dice di essere intervenuto con un provvedimento per la richiesta di calamità noi sappiamo che la richiesta di calamità è un provvedimento eccezionale difficilmente ci viene riconosciuto ma soprattutto è un provvedimento che oggi danneggia tutti gli abruzzesi perché le calamità si pagano con l'aumento delle accise sulla benzina e poi abbiamo letto il provvedimento che purtroppo a noi ci viene consegnato con ritardo e il provvedimento ci ha fatto rimanere sconcertati è un provvedimento che grida ventetta perché alla fine leggiamo il provvedimento e ci sono 8 comuni della provincia dell'Aquila e 11 comuni della provincia di Pescara interi territori dell'Aquila e di Pescara totalmente esclusi ma la provincia maggiore quella di Chiedi che produce il 65% dell'olio totalmente escluso la provincia di Teramo che pur produce olio totalmente escluso io credo che sia stato fatto un danno all'economia agricola regionale soprattutto abbiamo preso in giro gli agricoltori peraltro mi spiace devo segnalare che la comunità europea interviene per le polizie assicurative interviene lo Stato normalmente negli altri anni è intervenuta la regione Abruzzo abbiamo sempre stanziato dei fondi quest'anno abbiamo stanziato perché Forza Italia io e il collega Sospire abbiamo sottoscritto un emendamento solo 150.000 euro veramente ciò che è stato annunciato dall'assessore Pepe grida vendetta e soprattutto io spero che le organizzazioni professionali intervengano per censurare l'operato di questo governo regionale soprattutto dell'assessore Pepe è stato eletto dopo due giorni di votazioni che hanno visto recarsi alle urne oltre 600 iscritti il nuovo consiglio dell'ordine degli avvocati della provincia di Teramo a raggiudicarsi 15 seggi è stata la lista guidata dal presidente uscente Guirino Ambrosini che ha vinto grazie all'elevato consenso attribuito non solo ai singoli candidati ma all'intera squadra un convegno dedicato allo sport presso la sala dei ritratti a Palazzo dei Priori affermo con un focus particolare sul ruolo educativo dell'allenatore che prima che essere un preparatore tecnico nelle diverse discipline è un punto di riferimento e un maestro di vita vediamo il servizio la sala dei ritratti presso Palazzo dei Priori affermo ha ospitato sabato scorso il convegno dal titolo sport e formazione lo ruolo dell'istruzione tra prestazione e relazione quindi il ruolo educativo dell'istruttore ma anche tanto altro con l'intervento di Vincenzo Garino presidente provinciale del CONI che ha tuonato contro le istituzioni e contro gli scarsi investimenti nello sport nonostante si dica che lo sport è al centro dell'educazione che abbia una valenza e un'importanza fondamentale per il nostro paese sempre più spesso vengono relegati a ruoli marginali e soprattutto con una elargizione di fondi sempre minore ma intanto l'educatore deve essere anzitutto al centro del ruolo di qualsiasi istruttore come ci ha detto Don Mario Lusec responsabile per la pastorale per il Vaticano nello sport l'originalità di questa iniziativa del Comune di Fermo sta proprio in questo riscoprire la progettualità educativa all'interno dello sport per arrivare a dei progetti unitari e qui la figura dell'allenatore dell'istruttore è importante noi nel manifesto dello sport educativo abbiamo indicato cinque azioni per educare attraverso lo sport orientare accompagnare dare spedanza e soprattutto allenare quindi nella parola allenare non ci sono soltanto le strategie tattiche le tecniche la visione soltanto di un corpo da muscolarizzare il più possibile ma c'è anche proprio una visione dell'uomo intero e quindi proponiamo di abbinare la pedagogia quindi l'educazione insieme alla visione dell'uomo quale uomo vogliamo costruire attraverso lo sport e quale tipo di società vogliamo realizzare attraverso quest'uomo per cui l'allenatore non è soltanto un istruttore tecnico assume ruoli anche importanti ed è chiamato ad allenare un'infinità di atteggiamenti della persona Anche quest'anno in occasione delle celebrazioni della festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti il vescovo di Teramo Atri Monsignor Michele Seccia incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione dei media locali l'incontro anticipato di un giorno rispetto alla normale cadenza si svolgerà venerdì 23 gennaio prossimo alle ore 10.30 Umberto Orsini a Teramo per il quinto appuntamento della stagione di prosa 2014-2015 della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo lo spettacolo con la compagnia Orsini in collaborazione con Fondazione Teatro della Pergola va in scena domani alle ore 21 e il 21 gennaio alle ore 17 e alle ore 21 sarà rappresentato il gioco delle parti di Luigi Pirandello regia di Roberto Valerio un ospite d'eccezione nel Fermano il direttore della scuola di balo dell'Accademia della Scala di Milano impegnato in uno stage a Porto San Giorgio che l'amministrazione fermana ha voluto accogliere con tutti gli onori nel Tempio della Cultura cittadina il Teatro dell'Aquila vediamo una presenza prestigiosa del mondo della danza italiana ed internazionale ha onorato la città di Fermo nei giorni di sabato e domenica Fredrik Olivieri direttore della scuola di ballo dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano è stato protagonista di un tour fra le bellezze culturali cittadine accompagnato dal sindaco Nella Brambatti e dall'assessore alla cultura Nunzio Giustozzi particolare attenzione è stata riservata alla visita del Teatro dell'Aquila del quale il maestro Olivieri ha dato un giudizio letteralmente affascinante dice che si tratta di un gioiello d'arte che coniuga bene la danza e la cultura ma soprattutto è rimasto molto ben impressionato dall'accoglienza del primo cittadino e dell'assessore Nunzio Giustozzi che incarnano davvero quegli ideali di cultura che molto spesso altrove non si trovano il maestro Fredrik Olivieri impegnato sul territorio in uno stage di danza presso la scuola Giselle di Porto San Giorgio è stato anche testimone di una presentazione importante quella del volume fotografico del fotografo Pierluigi Abbondanza su Svetlana Zakarova e proprio il maestro Fredrik Olivieri è stato il tramite colui che ha presentato Abbondanza all'Etoile e che ha dato vita poi a questo libro un libro che racconta tutta la storia di una stella ma soprattutto di una donna le emozioni che possono trasparire da tanti gesti e da tanti momenti di una stella internazionale quindi un volume importante che il fotografo Abbondanza ha realizzato in più di due anni e mezzo seguendo la stella un po' ovunque e volendo guardare con gli occhi davvero appassionati la danza e l'etuale Zakarova Ed ora andiamo a San Benedetto mercoledì 21 gennaio alle 16.30 al Centro per Anziani Primavera si terrà un nuovo appuntamento con una puntata straordinaria di favole a merenda in trasferta dal titolo Il Bello delle Nonne La storia dedicata alla figura delle nonne sarà letta ed animata dalla volontaria Maria Grazia Cardinali e accompagnata da canzoni di un tempo suonate dal vivo dal musicista Marco Re E continuano gli spettacoli al Serpente Aureo di Offida dopo i primi due appuntamenti della stagione teatrale e il successo di pubblico con oltre 140 spettatori a evento saranno rappresentati Natale in Casa Cupiello e uno spettacolo in memoria della Shoah Sabato 24 alle 21.15 l'associazione Gruppo Amici dell'Arte presenterà la celebre Commedia Traggi Comica in tre atti scritta da Edoardo De Filippo nel 1931 Domenica 25 gennaio alle 17.30 per la settimana della memoria l'associazione Actor presenterà Shoah Ed ora è arrivato il momento delle previsioni meteo a seguire la pagina sportiva Buonasera e bentornata a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura dell'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli vediamo ora le previsioni per quanto riguarda la giornata di martedì 20 gennaio sulla nostra penisola qui possiamo vedere i cieli dell'Italia saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa sparsa in particolar modo per quanto riguarda il centro e il sud Italia scendiamo ora in dettaglio e vediamo le previsioni per quanto riguarda Marche e Abruzzo qui possiamo vedere le due regioni saranno conformi alla macro regione del centro Italia in particolare per quanto riguarda le Marche avremo la presenza di deboli rovesci le temperature oscilleranno fra valori di 12 e di 15 gradi la meteo e l'occatale è tutto al prossimo appuntamento dopo la disputa della seconda di ritorno in Lega Pro Girone B il Teramo conferma tutta la propria forza e al momento è da considerarsi l'antiascoli per eccellenza grazie alla vittoria di Grosseto unica esterna di giornata alla prima rete stagionale del baby per rotta e al fatto che tra Ascoli e Teramo c'è un solo punto di scarto torna al successo sofferto il Pisa mentre l'altra terza l'Aquila annichilisce la capolista con un eloquente 3 a 0 molto bene l'Ancona che batte la reggiana ex seconda della classe e prova a legarsi al gruppo delle grandi essendo a 5 punti dal Teramo e a 6 dalla vetta in coda colpo di coda del San Marino che vince 3 a 0 lasciando l'ultimo posto al Pro Piacenza in grado di pareggiare a Forlì prossimo avversario del Teramo fattore campo assolutamente ininfluente nella diciannovesima di serie D girone F lo rispetta la sola agnonese che batte 1 a 0 il Castelfidardo non ci riescono neppure le grandi con il Fano che non va oltre lo 0 a 0 contro la capolista maceratese e con la civita che è fermata al Polisportivo dalla Vis Pesaro inutile colpo di coda del Chieti che serve soltanto per inguaiare ulteriormente il Celano quasi quanto quello del Matelica Termoli mentre a un peso specifico importante l'1 a 0 della Re Canatese affermo buono il pareggio del San Nicolo a Iesi mentre appare quasi inutile l'1 a 1 della Samb a Giulianova e apriamo la pagina del basket di serie C nazionale ieri si è giocata la quindicesima giornata di campionato nel girone F andiamo a vedere insieme la classifica aggiornata Viar Ortona 28 Falconara 24 Pisarum Pesaro 20 punti Campli Osimo Matelica e Tolentino 18 Pedaso Civitanova e Valdiceppo 12 Perugia 10 Pescara 8 punti Loreto Pesaro e Gubbio 6 punti Successo netto per la Globo Campli che vince senza grossi patemi il match casalingo con Pedaso formazione che aveva riservato nel match di andata la prima delusione stagionale vittoria preziosa per i biancorossi che tornano a pieno titolo nella corsa al terzo posto il servizio In un colpo solo Campli cancella la brutta serata di Falconara la sconfitta beffa dell'andata Pedaso riprende la corsa ora apertissima al terzo posto l'ultimo utile per l'accesso alla seconda fase è una domenica propizia per la Globo Campli che vince senza tentennamenti il match casalingo primo del girone di ritorno contro Pedaso 81-65 il parziale finale per la squadra di Millina che indirizza da subito la gara sui giusti binari l'approccio al match di quelli giusti e i farnesi mettono immediatamente alle corte Pedaso formazione che ha perso lo smalto di avvio valere sia la maggiore fisicità sotto le plange ma anche la fruizione e la vivacità offensiva degli esterni alla prima sirena Campli già sul più 16 26-10 la gara non si scosta di una virgola da quello che emerge nel primo quarto Millina ruota molto gli uomini a disposizione senza avere problemi di sorta nel gestire il tentativo dei marchigiani attraverso i cambi difensivi di ridurre il distacco anzi il vantaggio spesso e volentieri è superiore ai 20 punti gara gestita senza grossi patemi per i biancorossi che chiudono con 5 giocatori in doppia cifra a dimostrazione di un equilibrio anche nelle soluzioni offensive un discreto minutaggio Millina lo riserva anche ai più giovani del roster a dimostrazione di una serata che scivola via senza grossi problemi la vittoria consente ai farnesi di tornare a meno 2 dal terzo posto occupato da peso lo sconfitto sabato da Ortona ora a quota 18 assieme a Campli ci sono altre tre formazioni tra le quali Osimo prossimo avversario dei biancorossi e torniamo al calcio quattro vittorie esterne del Francavilla dell'Avezzano del Miglianico e del Cupello nella giornata di riposo della capolista che resta tale paterno finisce 1-1 il derby Teramano tra Martinsicuro ed Albadriatica un risultato che accontenta decisamente di più gli ospiti prosegue il momento no del Pineto che non sa più vincere mentre molto importante la vittoria della tranquillità del Montorio che supera col minimo scarto la Renato Curi angolana reduce da un'ottima fase stagionale nell'eccellenza Marche turno favorevole al Tolentino vittorioso per 2-1 a Senigallia la capolista Falerone infatti non è andata oltre l'1-1 Casalinco contro il Corridonia addirittura ha perso in casa il Monticelli mentre ha pareggiato anche il Vismara ad Urbania ha dell'incredibile la risalita del Montegiorgio vittorioso anche ieri dall'avvento in panchina di Gianluca De Angelis la squadra ha letteralmente cambiato pelle e come vedremo è arrivata a stazionare a ridosso delle prime Pontevomano a Castelnuovo Notaresco a Balsorano e Mociano a San Gregorio sono le squadre che hanno firmato le tre vittorie esterne nella diciannovesima di campionato in promozione a Abruzzo non si ferma la capolista Morrodoro ha ripreso a correre il forte Pontevomano ma si è invece fermata di brutto la rincorsa della Palmense Santomero strabattuta da un buon ma non irresistibile tossicia non ce l'ha fatta il Tortoreto a strappare un risultato positivo nella difficile trasferta di San Nicolò contro il Castellalto viaggia con una settimana di ritardo il campionato di promozione Marche rispetto a quella abruzzese nel girone B si è infatti disputata la diciottesima giornata la capolista Elvia Recine vince la gara interna sul Potenza Picena ed allunga più 5 sulla San Giustese che non è andata oltre nulla di fatto nella trasferta di Montefano ne ha approfittato il Loreto che è andato a vincere 1-0 a Porto Sant'Elpidio riducendo lo svantaggio della seconda della classe per certi versi è clamoroso lo 0-0 esterno della Monturanese che consegue il secondo punto stagionale in trasferta a Potenza Picena appena 5 gol di giornata minimo stagionale se non storico il Girone D del campionato di prima categoria parla sempre più il linguaggio di due squadre del Calcio Giulianova e del Montaurei anche se la sorpresa di stagione è il Piano della Lente vittorioso anche ieri a spese della Virtus Teramo alla seconda sconfitta in otto giorni perde in casa anche il Bisenti battuto dall'Atletico Lempa mentre sembra di essere di altra caratura rispetto al Girone di andata l'Atria che supera nettamente per 3 a 0 quella toranese che appena nel turno precedente era andata a dispugnare il campo della capolista Roboante il 4 a 1 esterno delle tre ciminiere ha collaterrato in mentre è da considerarsi deludente l'1 a 1 interno del favale e abbiamo detto del deludente 1 a 1 casalingo del favale contro l'Insula Falchi intanto dopo le dimissioni di Alfonso Meloni la squadra sarà guidata dall'allenatore giocatore Sauro Raschiatore ma andò a vedere i particolari nel servizio di Gabriele Ricci e Gianluca Iezoni sfuma al 44esimo della ripresa il sogno del favale di portare a casa i tre punti e superare in classifica l'Insula la rete di Etabti subentrato nella ripresa Simone Betti permette ai giallorossi ospiti di mantenere due lunghezze di vantaggio sulla formazione locale che dalla prossima settimana sarà allenata da Sauro Raschiatore in settimana infatti è attesa la formalizzazione delle dimissioni di mister Meloni che era subentrato a Sorgi la gara vede la prima occasione per la formazione dell'Insula con Pasinelli che trova però la testa di Grelli a respingere in area un pallone complicato per il portiere locale al sedicesimo Iachini attirare da fuori area ma non trova la porta la rete del vantaggio per il Favale giunge al ventitresimo quando un errore di Gabriele Di Antonio sulla pressione di Manucci permette allo stesso attaccante di inserirsi in area di rigore recuperando la sfera e superare gli avversari segnando a porta vuota l'1 a 0 al 41esimo la formazione locale ha anche l'occasione per raddoppiare sul pressing alto Manucci recupera palla serve all'indietro Moscardelli che da centrocampo parte dopo aver saltato diversi avversari e il portiere si allarga e al momento di calciare trova l'opposizione proprio sulla linea di porta di Ivan Di Antonio che evita la rete nella ripresa però si vede un altro insula sicuramente più propositivo rispetto alla prima frazione di gioco ma la prima palla goal della ripresa è per i padroni di casa con Zilli che tira e solo un tuffo di Del Nobletto in anticipo sui giocatori avversari a liberare la palla dalla propria area al 19esimo Gabriele Di Antonio prima cincischia e poi si fa respingere il pallone da Moretti proprio calciando a tu per tu con l'estremo difensore locale al 22esimo è ancora Manucci sempre pressando la difesa ospite a recuperare un pallone su Deustacchio ma al momento della conclusione non trova la forza per superare Del Nobletto bisogna attendere il 44esimo quando Etabti sugli sviluppi di un corner calciato basso da Sandro Betti pareggia il conto dei gol il Marocchino sul primo palo colpisce la sfera e la insacca tra palo e portiere per il definitivo 1 a 1 nei 5 minuti di recupero è ancora Manucci a rendersi pericoloso ma non trova lo specchio della porta e il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale 19 i gol messi a segno nella 18esima giornata della prima categoria Marche Girone di soltanto Ciabbino ripa transone terminata a reti inviolate con la capolista Azzurra Colli che vince ancora e che continua ad allungare sulla seconda della classe il Futura 96 fermato sul 2 a 2 dall'altidona Pedaso in questo girone il discorso relativo alla promozione diretta sembrerebbe essere già chiuso e prima dei saluti finali vi ricordiamo l'appuntamento con J Magazine Sport di stasera alle ore 21 in diretta ospiti di Walter Cori Saranno Giuseppe De Amicis ex allenatore del Santomero Alberto Hector Ortega allenatore di calcio Matteo Porfiri collega del resto del Carlino e Roberto Di Felice dirigente della Globo Campli bene questa era la nostra ultima notizia io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti un buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti